Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Solar Sphere, gioco della Dranda Games, in questa edizione italiana che vedete qui davanti, a cura di GiochiX, che io ringrazio di cuore, ovviamente come sempre, per la copia che mi è stata fornita per la recensione. Si parla di un gioco, come recita la scatola, dai 14 anni in su, sì, mi trovano d'accordissimo, ma ora poi nel corso del video vi spiego perché, dai 60 ai 120 minuti, sì, una partita dura quel tempo lì, e da 1 a 4 giocatori. È un gioco competitivo, ma non è un gioco, concedetemi il termine, PvP, nel classico termine un po' videoludico, dove ci si deve fare la guerra, le battaglie uno contro l'altro, ma è un gioco dove ognuno pensa a fare più punti dell'altro per vincere a fine partita. Un gioco decisamente interessante e anche il tema trattato a me piace molto perché, chi mi conosce lo sa, sono veramente un patito e un fan dell'astronomia, quindi la Sfera Solare è un progetto dove l'umano, l'essere umano, sta pensando per un futuro non tanto prossimo di realizzare, e quindi comunque è una cosa veramente, veramente molto interessante. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Solar Sphere, in questa edizione italiana a cura di Giochi X, è un gioco di piazzamento droni, costruzione parti della Sfera Solare per guadagnare punti e vincere la partita. Come detto poc'anzi, prima della sigla in apertura del video, non è un gioco di scontro diretto, ma è un gioco dove si cercherà di muoversi meglio dell'avversario per andare a fare punti. Non c'è un vero e proprio sistema di griefing, tra virgolette, o di andare a minare le azioni dell'altro, ma quando si andranno a posizionare le tessere della Sfera Solare, tutti quelli che sono adiacenti guadagneranno dei punti. Quindi si cerca più che altro di minare cercando di non andare a costruire prettamente vicino alle costruzioni di un altro. Però allo stesso tempo è anche un gioco di battaglie, non fra giocatori, perché l'ambientazione vuole che le risorse della Terra sono arrivate al limite. Quindi le risorse sulla Terra sono state completamente finite. Si va dunque a cercare di prendere più energia. E dove la vai a cercare energia? Su altri pianeti? Corpi celeste? No. Sfruttando le stelle. In questo caso il Sole, la nostra stella. Nel discorso della Sfera Solare, che apre una piccola parentesi, a livello astronomico e a livello soprattutto fisico e scientifico, c'è l'idea, perché poi è soltanto teoria ma da fin di fantascienza, di costruire questa sfera, denominata Sfera di Dyson, appunto dal suo ideatore. Perché la Sfera di Dyson sarebbe qualcosa o anche un sistema a ragnatela o dei pannelli solari montati nelle vicinanze del Sole, tipo la distanza di Mercurio, per farvi capire, che andrebbero a incanalare tutta l'energia rilasciata dal Sole e in particolar modo dei brillamenti. Perché vi ricordo, con un solo brillamento solare si darebbe vita a tutta l'energia di tutto il fabbisogno di tutta la popolazione della Terra per svariati anni, se non generazioni, con un brillamento solare. E quindi comunque la Sfera Solare o questa Sfera di Dyson servirebbe per avere energia praticamente illimitata. Fino a che esiste il Sole, esisterà anche l'energia. E sarebbe un modo per riuscire a portarla sulla Terra e dare energia a tutti infinita. E praticamente lo scopo del gioco è quello. Però c'è una setta, o comunque un gruppo di dissidenti, di ribelli, che non vogliono che questo succeda e stanno cercando, perché pensano magari che andando a prosciugare le risorse della stella potrebbe soffrire tutto quanto il sistema solare, vi cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote. E quindi ci sono questi nemici che voi andrete a combattere sul campo di battaglia e questi nemici, interpretati appunto da navi che dovete distruggere di questi dissidenti e questi ribelli, saranno contro tutti. Quindi ancora una volta non è un gioco PvP, ma ognuno deve pensare a fare il miglior punteggio possibile andando a muoversi nella maniera più saggia e veloce per fare più punti. Perché il gioco finisce dopo sei turni, al sesto turno finisce la partita, o quando l'ultima parte della sfera solare viene posizionata. Quindi si fa, si finisce l'ultimo turno, che è quello corrente, e poi la partita finisce. C'è il sole, con la sfera solare che è andata a costruire, e ci sono diverse locazioni, tutte quante intorno. Locazioni che potete visitare, ovviamente per andare a prendere risorse, perché quello che serve nel gioco sono i tre tipi di risorse che ci sono, o il Jolly fa da quarta praticamente una risorsa qualsiasi, con quelle risorse potete prendere nuovo equipaggio, potete ovviamente fare anche nuove costruzioni e cose del genere, perché quello che vi servirà a voi sarà avere la vostra flotta, che è rappresentata da dei dadi nel gioco, che tirate in inizio turno, e questi dadi, col valore che danno, vi dicono su che pianeta potete sbarcare, perché magari quel pianeta, scusate pianeta, quella location, vi dice che per essere visitata ha bisogno di un 1 o un 2. Se voi di quei tre dadi non avete nessuno con un valore 1 o 2, non ce li potete mettere. Quindi voi vi potete muovere in queste location, in queste zone, intorno alla sfera solare, quando e se avete i dadi giusti, quindi quando la flotta, tra virgolette, è pronta. Ma allo stesso tempo dovete andare a combattere anche la flotta di questi dissidenti, e per combatterla o gli mandate contro la vostra flotta, o gli mandate contro dei droni, che i droni nel gioco servono a tante cose, servono per velocizzare la costruzione di qualcosa, o anche per combattere, perché per andare a combattere una flotta nemica, ciascuna nave nemica ha un valore di difesa che voi dovete eguagliare o superare. E come si fa? Dovete semplicemente raggiungere, mettendoci i vostri droni, abbastanza droni che vadano ad eguagliare la sua difesa o superarla. Però all'inizio viene tirato anche un dado, che va a dare un potenziamento di 1 o di 2 alla resistenza della flotta. Quindi magari la flotta a resistenza 2, tirando il dado viene fuori 1, quindi la resistenza 2 più 1 va a 3, voi dovrete metterci almeno 3 droni per distruggerla. Distruggendola guadagnerete punti morale e fama, che vi serviranno per diventare ovviamente importanti, e per avere un ruolo per giocare con le fazioni. Perché ovviamente voi siete in mani privati, che vogliono aggiudicarsi anche loro un pezzo di questa nuova tecnologia della sfera solare. Quindi sarete mandati da loro e vi dovrete fare amiche queste fazioni, con cui ovviamente potrete ricevere dei vantaggi. A fine della partita si va a fare tutto quanto un conteggio, fama, che dopo totte livelli dà dei punti, le battaglie anche che abbiamo combattuto, i pezzi che abbiamo combattuto nella sfera solare, e tante altre cose che andranno a tirare il vostro punteggio. Alla fine il giocatore che ha più punti, anche soltanto un punto in più, ha vinto la partita. Quindi è un gioco che a me ha ricordato molto, anzi moltissimo da vicino, Terraforming Mars. Cioè per me queste Terraforming Mars hanno veramente veramente molto in comune, per quanto su Terraforming Mars fondamentalmente le battaglie, le guerre non ci sono, però insomma il discorso è molto vicino. In conclusione questo Solar Sphere è un gioco per me, e ribadisco, io porto sul canale, lo sapete, sono giochi che mi piacciono, perché ultimamente me ne hanno proposti che non mi interessavano, e ho detto di no, è inutile avere la copia se poi il gioco non ti interessa, prenderebbe posto e basta. Questo è un gioco dai 14 anni in su, sì ragazzi, perché è un gioco per il tema trattato per tutti, perché comunque non tutti magari conoscono il progetto Sfera di Dyson e tutto il resto, però il manuale è esplicativo, e c'è anche un piccolo compendio al manacco che ti spiega tutto quanto. Però più che altro, sì, è un gioco per, non dico hardcore gamer, ma player esperti e navigati, perché qui lo mettete a un tavolo con un ragazzino, una persona di una certa età, o chi non è avvezzo ai giochi da tavolo, lo imbriacate dai discorsi, fa un giro di mano, si richiude, facciamoci una partita burraco, perché veramente non è un gioco per tutti, ma è un gioco per chi si vuole dedicare, approfondire e soprattutto avere una bella strategia e una grande logistica che deve accompagnare. Quindi non è assolutamente un gioco per tutti, compratelo se volete una sfida, compratelo se volete un gioco ben articolato, non difficile, però comunque complesso, come dico sempre, è ben articolato nelle regole, quindi assolutamente no, per non sbagliare, io non vi faccio spendere mai un euro, veramente sbagliato, o almeno cerco, non lo prendete così per curiosità, perché se non siete avvezzi a giochi del genere, rischiate insomma di fare un acquisto, che poi non vi divertirà. Io ringrazio ancora una volta GiochiX, per la copia fornita, grazie di cuore, è sempre un piacere, è totalmente a disposizione per collaborare con voi, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma, se andate sul sito, Solar Sphere, e lo trovate finito, bollino rosso, o proprio in lista, non c'è, mandate una mail a Corrado, una mail al supporto, della Gioco Libreria Semola, e fateli presente, che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui non soltanto ve lo troverà al miglior prezzo sul mercato, ma, se superate la spesa di 79 euro, ve lo spedisce a casa in 48 ore, gratuita, spedizione gratuita, non pagate il corriere, quindi in 48 ore va arriva anche fuori dall'Italia, in Francia, in Inghilterra, in 48 ore va arriva, e usate sempre il mio codice discount, Coridan7, tutto scritto maiuscolo, cliccate i discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7%, e ripeto, anche se il gioco è finito, oppure Solar Sphere, non ce l'ha il gioco Libreria Semola, non lo posso ordinare, chiedeteglielo uguale, perché se è reperibile, lui ve lo trova, io un servizio del genere, vi sfido a trovarlo da altre parti, che vi dicono tante volte, no, non ce l'ho il gioco, non è in catalogo, no, lui se non c'è, ma è uscito e si trova, ve lo ordina e ve lo manda, anche se non c'è, quindi il catalogo, il catalogo della gioco Libreria Semola, è pressoché praticamente infinito, grazie ancora una volta a GiochiX, e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate, non è un gioco per tutti, ma è un gioco che, se vi piace il genere, e affrontare delle sfide abbastanza complesse, secondo me vi diventirete da morire, ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le Live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima!